Il circolo tennis Monticello chiama, le giovani promesse nazionali della disciplina rispondono, l'impianto di grottaglie intitolato a San Francesco de Geronimo ha come ormai di consueto ospitato il torneo giovanile kinder, competizione di livello nazionale che ha visto all'opera quasi 300 giovanissimi di età compresa, tra i 9 e i 16 anni. Il circolo tennis San Francesco de Geronimo è una realtà che è nata nei primi anni 70 e adesso sta facendo grandi passi in avanti grazie alla nuova proprietà, l'Iconic, che ringraziamo per l'ospitalità. È una scuola tennis che è in continua crescita perché noi ci teniamo sia a far crescere i ragazzi dal punto di vista tecnico ma anche ci teniamo a trasferire anche un messaggio educativo perché sottolineando proprio la funzione educativa dello sport che è anche il principio ispiratore di questo torneo kinder che vede protagonisti i migliori ragazzi della Puglia. Io voglio esprimere chiaramente il mio compiacimento per questo torneo kinder che è il nostro fiore all'occhiello che da sei anni noi ospitiamo in questo periodo e che è sempre in costante crescita. Siamo partiti con un numero sei anni fa di circa 150 iscritti e quest'anno siamo arrivati ad avere 282 iscritti che è sinceramente un record. Devo dire che si affrontano atleti di tutte le categorie, promesse per il tennis si spera che è proveniente non solo dalla nostra regione ma alcuni anche da fuori regione. Da genitore consiglio a tutti i genitori come me di far praticare questo sport ai propri figli perché è uno sport sano, in un ambiente sano e che ti aiuta a crescere anche a livello mentale. Grazie a tutti e vive il tennis!